Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 313 che ha coinvolto 5 autovetture, ci sono 7 chilometri di coda tra Baldarno e Firenze Sud e 6 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per lavori, chiuse le corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, con chiusura in entrata e uscita dello svincolo di Firenze Impruneta. Sulla Direttissima in direzione Roma, rallentamenti per materiali dispersi tra il Bivio A1 Variante e Badia. Sulla Fipili per lavori, 3 chilometri di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze e rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!